Castelnuovo si avvicina al Santo Natale con molte iniziative. Oggi sono partiti i mercatini che verranno replicati anche domani, promossi dagli artigiani e da varie associazioni. Previsti spettacoli di danza, giochi del tempo passato e una tombolata natalizia. Ma la vera novità di quest'anno è rappresentata dalla manifestazione dal titolo sulla scia della cometa, in programma domani, domenica 21 dicembre, per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 19. Si tratta di un presepe vivente realizzato all'interno della fortezza di Montalfonso, dove i comitati delle frazioni del comune diventano protagonisti. Le frazioni sono le vere protagoniste del presepe in quanto sta a loro l'organizzazione e l'allestimento dei punti degustativi e della ricostruzione degli antichi mestieri. Ogni frazione ricostruirà il proprio paese e riportato cent'anni addietro. L'ingresso è libero e per raggiungere la fortezza è stato organizzato un servizio gratuito di bus navetta. Lungo il percorso del presepe si potranno degustare prodotti tipici locali. Il ricavato delle vendite e delle donazioni sarà devoluto alla Caritas.